Allora io partirei. Buon pomeriggio a tutti e a tutti coloro che sono collegati con noi, Università della Terza Età e anche altre persone che sono interessate a seguire un incontro dedicato ad un paese africano. Infatti questo incontro, oltre che essere inserito nell'Università della Terza Età, è inserito anche negli occhi dell'Africa, una rassegna di cinema e cultura africana organizzata da Caritas Diocesana, della Diocesi di Concordia e Pordenone, dall'Associazione L'altra Metà e da Cinema Zero, in collaborazione con il Centro Culturale Casa Zanussi. Con noi in collegamento Ruggero da Ross, che è affezionato nostro docente dell'Università della Terza Età, lui ci propone sempre dei viaggi molto particolari, soprattutto fatti con mezzi inusuali, diciamo, perché chi va in Africa di solito si affida a un tuo operator, di solito invece Ruggero organizza i suoi viaggi da solo. E quindi sarà molto interessante capire anche come si può affrontare un viaggio in Botswana, che di solito è un viaggio molto costoso, con mezzi un po' diversi. Vi do appuntamento anche agli altri incontri dedicati all'Africa, ne avremo uno il 24 novembre in cui parleremo di Eritrea e poi sempre con Ruggero ne avremo un altro il 30 novembre in cui parleremo di... Uganda mi pare. Uganda, ecco, un altro stato. Di Gorilla dell'Uganda. Ecco, perfetto, perfetto. Quindi completiamo l'Africa, diciamo, quest'anno, perché l'ultima volta che io sono stato lì, è stato il 20 febbraio, pochi giorni prima del lockdown. Lockdown, perfetto. E l'abbiamo fatto in Sudafrica, quindi completiamo l'Africa nella sua... Benissimo, allora io cedo la parola a Ruggero D'Aros e buon incontro a tutti. Grazie. Ecco, allora, oggi parliamo appunto del Botswana, che fa parte sempre del viaggio che abbiamo fatto due anni fa nell'Africa australe, quindi Sudafrica, Botswana e Namibia sostanzialmente. E adesso vedremo meglio nella mappa. Intanto, beh, vediamo sempre, cominciamo con farci un'idea di chi ha colonizzato questi luoghi di cui parliamo. Vediamo qui appunto che il Botswana, che è questa parte qui, è una colonia inglese. E notate in questa mappa che gli stati in rosso, che sono appunto quelli colonizzati dagli inglesi, seguono quasi una linea nord-sud, a parte un'interruzione qui dei tedeschi sulla Tanzania sostanzialmente. E questo dopo ci tornerà utile quando parleremo di uno dei colonizzatori di Rhodes. Quindi, questo è il viaggio che in parte abbiamo già visto, perché appunto il 20 febbraio scorso io ho parlato del Sudafrica. E adesso andremo a vedere questo stato invece, che è il Botswana. Come vedete è uno stato che non ha sbocchi sul mare, è grande tre volte l'Italia, due volte qualcosa l'Italia, ed ha veramente pochissimi abitanti, poco più di due milioni di abitanti. E' uno degli stati meno abitati al mondo, il meno abitato in assoluto è la Mongolia, dopo viene il Botswana. Qualcosa come tre abitanti per chilometro quadrato. Mi sembra che la Lombardia ne abbia qualcosa come 450 per chilometro quadrato, tanto per fare un confronte. Ecco, qui adesso ho fatto comparire, se vedete, questi numeri in arancione, rosa, che indichano il prodotto interno lordo di questi stati. La cosa che mi ha sorpreso non è tanto il fatto che il Sudafrica avesse 13.500 dollari pro capite di prodotto interno di PIL, perché si sa che il Sudafrica è uno degli stati più ricchi dell'Africa, ma il fatto che il Botswana lo superasse. Il Botswana ne ha 18.000 e ne ha di più anche della Namibia e sicuramente degli stati intorno. Se vedete lo Zimbabwe 2.000, altri 2.000 all'Angola, 4.000 all'Ozambia, quindi veramente 1.300 addirittura di Mozambico. Quindi veramente è uno stato ricco il Botswana. E il motivo della ricchezza lo vediamo adesso. E così dico che chiaramente molti vogliono andare e migrare in Botswana, soprattutto dallo Zimbabwe e dallo Zambia, tanto che qui, lungo il confine tra la Botswana e lo Zimbabwe, c'è uno dei più grandi movi del mondo, costruito nominalmente per la lafta episodica, per bloccare appunto questa infezione, per evitare il passaggio degli animali, in realtà serve anche per controllare l'immigrazione. E vediamo qua proprio la mappa, questa è la cartina che indica i primi 13 stati dell'Africa per ricchezza. Vediamo che il Botswana è al quinto posto e dopo veramente stati piccoli come la Guinea Equatoriale, le Seychelles, il Mauritius o il Gabon, stati o che hanno turismo piccoli o che hanno tanto turismo, oppure che hanno tanto petrolio. E poi viene il Botswana che sta ben davanti in Sudafrica e la Namibia, come vedete. E quindi è uno stato ricco. A cosa è dovuta questa sua ricchezza? Dal fatto che appena due anni dopo l'indipendenza ottenuta dall'Inghilterra nel 1966, sono stati scoperti i diamanti, delle miniere di diamanti. E come vedete il Botswana è fra i cinque più grandi produttori di diamanti al mondo. È il quarto posto. Davanti ci sono Repubblica Democratica del Congo, Russia, Australia e poi Sudafrica. Ma dobbiamo tenere presente che questi 7 milioni di carati sono da dividere su 2 milioni di abitanti, non su decine di milioni come gli altri stati, se no anche centinaia di milioni di abitanti. Quindi capiamo il perché il Botswana è così ricco. E la cosa però interessante del Botswana non è solo la sua ricchezza, ma il fatto che sia anche uno degli stati meno corrotti non solo del Sudafrica, ma del mondo, tanto che è ben meno corrotto dell'Italia. Se vedete qui in rosso è insegnata la posizione dell'Italia, che siamo al sessantesimo posto, il Botswana è al quante cinquesimo posto. È uno degli stati meno corrotti. Se vediamo la Namibia e Sudafrica appunto sono intorno all'Italia. E quindi è da capire il perché questo stato, insomma, non solo sia ricco, ma bene o male abbia anche una politica e una situazione sociale stabile. Una delle spiegazioni l'ha data la rivista internazionale in un articolo di un anno fa che mi è molto piaciuto e che ho riportato qui il titolo e parla della ricetta dell'unità. Inoltre, cosa ha fatto questo paese? Questo paese, fin da poco dopo la sua nascita, intorno agli anni settanta, ha cominciato a mandare i suoi dipendenti pubblici in giro per il paese. Perché questo? Perché il Botswana ha 26 tribù. È composto da 26 tribù. Sei più grosse, principali, ma in totale sono 26. Tutte disunite, che non c'entrano niente l'una con l'altra. Il governo ha pensato bene di prendere tutti i dipendenti statali, per esempio gli insegnanti, i dipendenti comunali, e di mandarli a gestire e lavorare per molti anni dall'altra parte del paese. In questo modo, in 20-30 anni, queste persone hanno cominciato a far famiglia in questi posti e tutti hanno, bene o male, dei familiari in qualche tribù. E questa è veramente un'idea molto bella, se pensiamo che molti altri stati, tipo la Repubblica Democratico e il Congo, pur essendo ricca di minerali, una tra le più ricche del mondo, ha un problema interno di lotte fra tribù che la rende uno degli stati più insicuri dell'Africa, sicuramente. Questa è stata veramente una bella idea. Non solo hanno fatto questo, ma hanno anche istituito una specie di servizio civile di un anno, successivamente, negli anni 2000, in cui per un anno le persone vengono mandate a lavorare, a fare il servizio civile, proprio in altre tribù, lontano dai posti, in modo da unire. E questo ha portato sicuramente a questa stabilità sociale ed economica. E il governo, con tutti questi soldi che ha ottenuto dai diamanti, li ha subito investiti nel welfare, cioè nell'istruzione, nella gestione delle strade, quindi sicuramente è uno stato di esempio, non solo per l'Africa, ma anche per il mondo. Bene, partiamo. Vi ho già detto l'altra volta, magari se qualcuno non c'era, lo dico adesso, che abbiamo preso, hanno leggiato una macchina in Sudafrica perché costava molto meno che in Botswana oppure in Namibia. Io abbiamo pagato questa macchina che abbiamo ottenuto per oltre un mese 12 euro al giorno, assicurazione compresa, che è pochissimo. una fuoristrada in Namibia costa intorno ai 150 euro al giorno, quindi sono costi veramente alti in altri stati. Per questo abbiamo noleggiato lì, abbiamo chiesto il permesso di poter andare negli stati sia intorno, cioè sia in Namibia che in Botswana, e abbiamo fatto 13.000 km con questa macchina. È una macchina, una Renault Twing, un 900 di cilindrata, ma li ha fatti senza problemi. senza problemi e girando per questi posti in modo tranquillo. L'unica cosa che abbiamo avuto, la vedremo adesso, è una foratura per strada. Queste sono appunto le strade, diciamo che siamo appena entrati in Botswana, siamo entrati dal nord, e le distanze sono grandi, quindi all'inizio facevamo addirittura parecchie centinaia di chilometri al giorno, ma le strade sono sempre dritte e molto belle, e come vedete sono come queste. Anzi, sono anche pericolose, perché il limite di 120 km all'ora, pur essendo delle strade normali, non certo delle autostrade, e invogliano a correre, solo che il problema sono gli animali. Se vedete ai lati c'è la rete per proteggere appunto la strada dagli animali, ma malgrado questo ce ne sono comunque tantissimi, quindi non bisogna mai correre. Ecco qua, l'unico problema che abbiamo avuto con questa macchina, è una foratura proprio il primo, il secondo giorno sostanzialmente, in cui ci siamo accorti di un pezzo di ferro dentro la ruota, ma per fortuna non era ancora sgonfia, e l'abbiamo tranquillamente sostituita. Non abbiamo avuto altri problemi, se non la batteria, che dopo chilometri e chilometri di strada sterrata, è uscita dal suo posto, è rimasta appesa per i fili, e appunto un attimo si è sistemata. Ecco, noi stiamo entrando, siamo entrando, siamo da dentro appunto il Botswana, ma stiamo girando intorno al deserto, al deserto del Calari, e come vedete il territorio è desertico, e le varie etnie, la maggiore etnia sono sicuramente l'Itswana e i San, che poi vengono chiamati anche i Boshimani, che sono una popolazione che in qualche modo è stata allontanata, è stata emarginata, allontanata dal deserto, perché dopo che hanno scoperto i diamanti sostanzialmente. All'inizio erano stati, gli era stato concesso praticamente tutta la zona desertica, tanto non interessava nessuno, poi hanno scoperto i diamanti, e questa cosa, a seguito di questo, hanno dovuto andarsene sostanzialmente. Ecco qui, questo è il Calari, il deserto del Calari, ed è una riserva, chiaramente una riserva desertica, e un deserto che è uno dei più grandi al mondo. E' il sesto deserto, poi lo vedremo più avanti con una scheda, e' il sesto deserto più grande del mondo, misura un milione di chilometri quadrati, circa tre volte l'Italia, e noi con la macchina ci siamo praticamente girati intorno. E se notate qui, in alto, sopra la parola bozzuana, ci sono le macche di Gadi, Pans, delle pozzanghere, dei laghi salati sostanzialmente, che si riempiono un po' d'acqua nella stagione, durante la stagione delle piogge, e poi diventano tutti bianchi, tutti bianchi, negli altri periodi. Eccolo qua, entriamo in questo parco nazionale, e' anche, poi c'è anche, diciamo, una zona di osservazione, degli uccelli. E queste sono sempre le capanne dei boscimani, che hanno, molti dei quali hanno mantenuto la loro vita, pur adeguando, sicuramente andando a scuola, ha mantenuto sicuramente la loro vita, il loro stile di vita. E poi, intorno, ci sono tutte queste, queste zone bianche, appunto, che sono, e' un lago che, che fino a diecimila anni fa, era pieno d'acqua. Poi il piampennino si è essiccato, anche nel zambesi, ha cambiato il suo percorso, e sono rimasti, appunto, queste saline. Guardate, sono molto estese, e sono in diverse parti, sono distribuite in varie zone, di questa, diciamo, della parte orientale, del deserto del Calari. Ecco qua, vabbè, i baobab, i classici baobab, che, insomma, sono disseminati, proprio, intorno a questi, a questi pan. In un posto, poi vedremo, ce ne sono alcuni di concentrati, anche, anche famoso. Questa qui, è, un, un tanto all'africano, una, una cicogna, del becco giallo, becco rosso, dipende un po' dai colori, un po' come emergono, e, e in questo, siamo dentro, appunto, questo luogo di osservazione, degli uccelli. A me, queste sono i fenicotteri, che sono, appunto, tantissimi in questo, in questo posto, e questa è una ghiandaia, bella colorata. Queste tutte, sono foto che, abbiamo preso, con, con lo zoom, abbiamo fatto, avevamo, insomma, tre macchine fotografiche, con uno zoom potente, appunto, per arrivare, molto vicino agli animali, è una delle cose, che servono, direi, quasi, solo in Africa, non tanto, negli altri viaggi, è avere una macchina fotografica, con uno zoom potente, perché gli animali, sono spesso lontani, non ci si può avvicinare, tante volte, e avere una macchina, con un zoom potente, permette, di fare delle foto, appunto, come queste, di avvicinarli molto. Ecco, vedete anche questo, è fatto con lo zoom, sono degli gnu, con i fenicotteri, sono abbastanza lontani, poi, perché se no si spaventano, ed escono via. Vabbè, è lo struzzo, che è assolutamente familiare, in queste zone, è lo struzzo, che come sappiamo, è il più grande uccello, arriva addirittura, a un 150 kg di peso, può arrivare, solo che non vola a questo, ha una velocità altissima, li ho visti correre, sono velocissimi, proprio, viaggiano intorno, arriva fino a 70 km all'ora, è il loro modo di scappare. Questa invece è lotarda, lotarda, è il più grande, uccello, il più grosso, diciamo, il più pesante uccello, che vola. Diciamo che di solito, il suo peso, viaggia intorno ai 5-10 kg, ma si sono trovati anche, degli esemplari, che arrivano ai 15-18 kg, è l'unico, appunto, di queste dimensioni, che può volare. Ecco, dicevo, nella mappa finale, se si riesce a vedere, ho inserito un attimo, un confronto fra i deserti, per noi che, non viviamo appunto, in una zona non desertica, il deserto è qualcosa, che affascina sempre. E allora, quali sono i deserti più importanti? sono sicuramente, vengono specificati come deserti, anche i deserti, i poli, i polo nord e sud, che hanno 13 milioni di chilometri, 13-14 milioni di chilometri quadrati di superficie, una cosa immensa. L'Europa, tutta l'Europa, sono 10 milioni di chilometri quadrati, quindi, sono più grandi dell'Europa. Poi, al terzo posto, e adesso entriamo nei deserti, diciamo, quelli classici, quelli che conosciamo noi, è il Sahara, che ne ha 9 milioni di chilometri, quindi è grande, quasi come tutta l'Europa. Poi viene la penisola arabica, che ne ha 2 milioni, e il deserto dei Gobi, che ha poco più di un milione, e poi appunto il Kalari, quindi è uno dei deserti sicuramente più grandi, più grandi al mondo. E ho aggiunto, tanto per uscire un attimo dall'Africa, ho aggiunto queste foto di quest'estate, che sono stato a fare un viaggio in, in Francia, e sono arrivato alle dune di Pilate, che molti di voi avranno sicuramente visto, e devo dire, la prima volta che le vedevo, e non pensavo fossero così alte, sono decisamente imponenti, sono molto belle, tanto per parlare delle dune, sono le dune più alte che abbiamo in Europa, queste, e io pensavo fosse una cosa simbolica piccola, invece sono molto alte, e per salire, vedete queste a sinistra che salgono, devo dire che è una bella fatica, ci si mette un bel po' a salire, arrivare in cima, e scenograficamente sono molto belle, perché da una parte c'è, c'è una piccola foresta, dall'altra c'è l'oceano, assolutamente molto belle. ecco, torniamo in Africa, e contempliamo questo cielo, questo cielo, con la luna, come vedete, siamo vicini, poco sotto l'equatore, e la luna, come vedete, è rivolta verso il basso, la gobba non è verso destra, è verso sinistra, come siamo abituati ad averla noi, e sopra c'è anche Venere, più in alto, lo si può vedere, era un bel cielo stellato. Bene, arriviamo nel delta dell'Ocahuango, l'Ocahuango è un fiume, che nasce in Angola, e dopo mille chilometri, muore nel deserto del Calari, l'acqua si disperde nel deserto, ma si disperde, diramificandosi, e creando delle isole, in una superficie, che è grande quanto la Lombardia, ed è il secondo delta fluviale, interno al mondo, il primo è il Niger, però ha una situazione completamente diversa, il Niger è inquinato tantissimo dal petrolio, dalle compagnie petrolifere, che estraggono petrolio, disinteressandosi del problema dell'inquinamento, e mentre l'Ocahuango, l'acqua è invece pura, tanto che si potrebbe anche bere, quindi è una quantità immensa di acqua, che arriva e muore nel deserto, sono 11 chilometri cubi di acqua all'anno, e sono tantissimi, questo è il patrimonio dell'UNESCO dal 2014, guardate qui una foto dall'alto, che ho messo da satellite, come si vedono benissimo, i panze, queste zone salate, bianche a destra, che abbiamo appena visto adesso, e come si vede questa specie di fiore, che forma il delta dell'Ocahuango, quando si risperde nel deserto, creando appunto questo insieme di isole, di acquitrini bassi, è una cosa che impressiona, soprattutto volandoci sopra, come dopo faremo, questa invece fa vedere meglio, come è strutturato il delta dell'Ocahuango, noi siamo arrivati a Maun, che vedete qui cerchiata in verde, e da lì, che è la città base, è una cittadina piccola, è la base per scoprire l'Ocahuango, da lì si parte per le escursioni, e le escursioni che si fanno qui, sono tipicamente tre, noi siamo stati quattro giorni nel delta dell'Ocahuango, e abbiamo fatto due giorni un'uscita con una barca tipica, la Mokoro, e abbiamo dormito una notte fuori in tenda nel delta, poi un giorno l'abbiamo utilizzato per sorvolare con l'aereo il delta, per vederlo dall'alto, e un altro giorno per fare un'escursione in jeep, nella riserva del Moremi, qui sulla destra, vedete in alto, quindi il delta dell'Ocahuango è diviso in due parti, diciamo il delta vero e proprio, e questa riserva Moremi, che è famosa perché è facilmente percorribile in macchina, per cui è una di quelle più frequentate sostanzialmente, mentre più in alto vedete c'è il Ciobe, e poi andremo a vederlo più avanti successivamente, quindi adesso concentriamoci su questo delta dell'Ocahuango. Ecco qui l'escursione che vi dicevo di due giorni, con queste barche che sono scavate in un tronco d'albero, sono una specie di canoe, e qui entriamo, vengono usate queste pertiche, appunto per andare avanti perché l'acqua è molto bassa, e si va avanti per alcune ore, fino ad arrivare ad un'isola, dove poi si fa un'escursione a piedi, sempre accompagnati dalla guida, ed ecco qui le zebre con la giraffa. Devo dire che questo era il nostro primo viaggio in Africa, alla scoperta dei parchi, e io non sapevo, non sapevamo cosa voleva dire fare un safari, non sapevamo se erano gli animali che ci passavano davanti, o noi che dovevamo andare in cerca, quindi anche questa è stata una scoperta, si va generalmente in cerca, chiaramente con la macchina o con la guida, dipende dai parchi, questo era a piedi, e come vedete c'è questa giraffa e delle zebre, le giraffe e le zebre sono totalmente innocue, le giraffe di solito hanno paura, delle persone scappano via, le zebre no, sono un incrocio appunto fra l'asino e un cavallo, in qualche modo sono veramente tranquille, ci si può avvicinare finché si vuole, e le zebre stanno sempre vicino alle giraffe, perché le giraffe appunto avendo il collo alto, vedono il pericolo da lontano, e quando loro cominciano a scappare, anche le zebre scappano. Questi sono gli gnu, come vedete, sempre in questa escursione a piedi, con lo zoom sempre da lontano, e poi continuiamo il nostro percorso, passando di isola in isola, con questa barca. e poi ci sono gli elefanti intorno, e poi qui continuiamo, questi paesaggi sempre molto belli, con una luce stupenda. E questo elefante, eravamo da soli in quest'isola con la guida, insomma si eravamo fermati, eravamo scesi dalla barca, a un certo punto in lontananza, questo elefante ha cominciato a caricarci, tanto che abbiamo dovuto scappare di corsa, la guida ci ha detto andiamo, andiamo via di corsa, perché ci stava caricando. E insomma, lì abbiamo scoperto alla fine che, insomma, non sono forse i leoni più pericolosi, ma quasi quasi gli elefanti. Gli elefanti hanno sempre, hanno sempre, sono sempre molto attenti, soprattutto quando hanno i piccoli insieme, sono molto pericolosi. Qui abbiamo piantato la nostra tenda, era una tenda, essenzialmente presa dalla Declaro, quelle piccole, le avevamo messe nello zaino, avevamo due zaini, uno per i nostri vestiti, uno per la tenda e i sacchi a pelo leggeri, e questa tenda ci è stata utile, l'abbiamo utilizzata in tutto il viaggio, ben più di quanto pensassimo, su 35-37 notti, ne abbiamo utilizzate 9-10 notti, ed è comoda, bella chiusa, soprattutto qua dove ci sono le zanzare, sapete che uno dei problemi, appunto, sono le zanzare in Africa, e sono le zanzare tra le più, insomma, pericolosette. Qua è una scelta personale, poi ognuno cerchisce di farla profilarsi, noi per tanto tempo abbiamo scelta di non farla, ma siamo sempre stati molto attenti a stare coperti, vedete Paola qui, la mia compagna, che era molto coperta, appunto, per evitare dei punti di zanzare, e dentro questa tenda, sicuramente era tutta sigillata, chiusa, ci sentivamo, sentivamo il sicuro. E guardate qui, la sera prima di andare il tramonto, su questo delta, ecco qui la guida ci accende il fuoco, la guida vicino, aveva la sua tenda dall'altra parte, che si era portato anche lui, ci ha acceso il fuoco per farci da mangiare, e poi la mattina ripartiamo lungo questo delta. Bene, il giorno dopo, il giorno dopo, andiamo a prenotare il volo, e facciamo un volo di un'ora, su un'ora e mezza, un'ora e venti, sopra lo Kauango, con questi aerei, sono tantissimi, è proprio una delle cose classiche che si fanno, sono aerei da otto posti, dei Cessna, e eccoci qua, con appunto otto persone, e sicuramente il paesaggio è stupendo, è una delle più belle cose, non costava neanche tanto, se l'avevo pagato 110 euro a testa, il volo, non era poi così tanto, ma sicuramente ben spesi, perché ci ha fatto vedere i panorami molto belli, quindi un'occhiata a vedere questi animali visti dall'alto, del delta dello Kauango, con questi scorci assolutamente particolari, ecco, vedete quanti animali che ci sono, probabilmente non si riesce a vedere, non credo siano elefanti, probabilmente sono new, un attimo, non mi apre, un attimo solo, che aspetto la foto, non vedo la foto, vediamo se, ho perso il controllo, credo, perché non mi manda avanti le foto, non so se qualcuno può controllare questa cosa, Ruggero, io vedo le foto, adesso c'è un'immagine della Rai 3, è solo che non le vedo io, e quindi vado male a gestire, vediamo un attimo il perché non le vedo io, adesso ci sono dei panicotteri in volo, adesso si le ho riprese, perfetto, si accetta, e si vede che è stato un attimo, torno un attimo indietro, dicevo, appunto, questi panorami stupendi, e poi ho aggiunto queste foto, perché le ho viste in un servizio della Rai, della Rai, queste sono foto prese da un filmato, un salvaschermo, della Rai, che sono state fatte in posti molto vicino a noi, e appunto non posso chiedervi la risposta, ma queste foto sono state prese sulla Laguna Veneta, volando sulla Laguna Veneta, e guardate che assomiglia tantissimo, cioè anche la nostra Laguna Veneta ha appunto questi colori, questi canali, quasi come il delta dello Kauango, ci sono i panicotteri anche nella Laguna Veneta, stanno aumentando, e guardate questa foto quant'è bella, sempre della nostra Laguna Veneta, quindi chissà, magari un giorno ci sarà la possibilità anche di volare per vedere questa laguna che abbiamo così bella, vicinissimo a noi. Quindi non abbiamo nulla da invidiare per certi aspetti, insomma, al delta. Ecco, qui invece ho messo questo confronto fra i parchi, perché una delle domande così che mi ero posto quando sono andato in Africa e ho cominciato a vedere i primi parchi, era ma quali sono i parchi più belli dell'Africa, i più interessanti, i più così, quelli che mediamente vengono considerati quelli più, più, con più animali. e allora ho cercato in giro, diciamo che è emersa questa classifica che è ovviamente sull'impressione solo di alcuni viaggiatori, è soggettiva ovviamente, ma guardando un po', mettendo insieme più impressioni, è stata fuori questa classifica e appunto mette il delta dello Kauango come tra i primi posti, diciamo tra i primi sei. Sicuramente il Masai Mara e il Serengeti con appunto la migrazione degli Gnu è il posto dove circolano più animali, ma anche il delta dello Kauango è un parco molto interessante. Abbiamo visto la tua volta il Sudafrica, il Cruiser, e poi ci sono le Tossa e il Lamboseli. La prossima volta andremo in Uganda e vedremo la foresta albiguindie. È importante questa, è famosa perché ci sono i gorilla. quindi lo vedremo nella prossima presentazione. Bene, uno dei problemi per dormire in Motswana è il fatto che se si vuole andare nei lodge belli costa parecchio. Allora noi siamo andati solo in qualcuno, l'abbiamo usato poche volte, se no abbiamo usato sistemazioni normali, però abbiamo mangiato magari, ci siamo permessi di mangiare dentro nel ristorante dei lodge. E guardate, sono veramente belli, hanno queste sale dove si cena con questa natura davanti. e poi, vedete, questa è la sala dove si apre sulla natura intorno e mentre si mangiano, la mattina presto, magari durante la colazione, si possono vedere spesso gli animali intorno. E questa è la bellezza dei lodge. E spesso, quasi sempre, hanno queste, diciamo, queste tende, queste tende lussuose disperse dentro la natura, dentro il bosco, e poi si cena nella sala comune, c'è una struttura comune dove si cena, dove si ritrova la sera, ma poi si va a dormire in questi posti e intorno c'è tanta natura. Questi posti possono costare tantissimo. Spesso sono dispersi nelle isole dentro lo Kauango. Si parla anche di migliaia di dollari a notte, per cui lo Kauango è decisamente costoso, il Botswana è costoso. Noi stessi, che abbiamo utilizzato lo stesso criterio per viaggiare in Sudafrica, in Namibia e in Botswana, quindi abbiamo utilizzato appunto la stessa economia, diciamo, abbiamo speso il doppio in Botswana rispetto alla Namibia e rispetto al Sudafrica, proprio perché è un posto, oltre ad essere ricco, diciamo che si fa pagare, si fa pagare qualsiasi cosa tantino. Bene, vicino la parte, diciamo, destra, guardando la cartina, la parte orientale del delta dello Kauango è questo parco, questa riserva, che ospita una grossa concentrazione di animali, tra le più elevate di tutta l'Africa e appunto è famosa perché ci si può entrare facilmente con le macchine, con le jeep, per fare le escursioni. Ecco qua, noi abbiamo comprato un'escursione in giornata, siamo partiti la mattina, siamo tornati la sera, insieme a altre persone, poi le vedremo, vediamo che qua, un sette, otto persone, e vediamo, questa è la stessa foto, ho sbagliato, per rimettere la foto, e anche qua facciamo delle escursioni a piedi, ma soprattutto le facciamo con la macchina, questo è un kudu, un'antilope africana, e guardate questo lago con i popotami che emergono, sono bellissimi, e questi sono, loro non ci vedono molto bene, sono pericolosi proprio perché non ti vedono, quindi bisogna sempre stare alla larga da questi, perché loro vanno avanti, e non indipendentemente dal fatto che tu sia lì vicino, ecco qui sempre con lo zoom da lontano, sicuramente è un posto stupendo questo, infatti abbiamo mangiato proprio, questo ecco, eravamo tutti insieme in questa escursione, in classiche jeep, in queste classiche jeep aperte africane, e eravamo sul, ci siamo seduti davanti a questo lago, guardando appunto gli popotami, il motivo, quando c'è un parco, non si deve mai scendere dall'auto, è vietato, anche quando si va con la propria auto, non si può mai scendere, perché appunto è pericoloso, in qualche modo, gli animali vedono l'automobile come un altro animale, quindi, allora è quasi indifferente l'automobile, però se vedono la persona scendere, può diventare molto pericoloso. Qui ci sono degli elefanti, che si appunto, che si fanno il bagno nel fango, nella loro passione, e poi i leoni, questo è un gruppo di leonesse all'ombra, siamo raffinati sempre qua, sempre sulla jeep aperta, così. Ecco, i leoni sono, vabbè, insomma, è il felino più, più, l'animale più, più, più pericoloso, riescono anche a cacciare, in certi casi, gli elefanti, quando sono in gruppo. Diciamo che il leone, di solito, caccia animali, che sono più o meno, poco più pesanti di lui, il leone viaggia sui 150-200 kg, riesce a arrivare, a cacciare animali, fino ai 300-150 kg. Gli elefanti, che superano di gran lunga, la tonnellata, non per loro, sono troppo grossi, però a volte, si mettono in gruppo, e riescono, se gli elefanti sono pochi, uno o due, riescono anche a cacciarli. E qui, metto questa, questa mappa, che fa vedere, che alla fine, sì, gli animali, la classifica degli animali più pericolosi, è il numero di morti per anno, uccisi dagli animali, fa vedere, sì, che, insomma, lo squalo ne uccide 10 all'anno, di uomini, il lupo 10, il leone 100, 100 gli elefanti, gli ipopotami, quello che dicevo, 500, proprio perché, 1000 i cocodini, però, guardate, se andiamo, e poi avanti così, se andiamo nella mappa successiva, vediamo che, quelli che più uccidono l'essere umano, sono gli umani stessi, e quindi 475 mila esseri umani uccide l'uomo, e più di tutti la zanzara, la zanzara, ovviamente, è l'animale che uccide più persone di tutto, quindi, diciamo che i più pericolosi siamo noi e le zanzare. ecco, questi sono degli encefali, delle antilopi dal collo corto, la solita giraffa, che appunto a seconda del manto, quando è più scuro, è un elemento maschio, si possono distinguere, quando è più chiaro, sono delle femmine, ecco qui, da vicino, sono carinissime, scappano sempre, e adesso usciamo dal Moremi e ci incamminiamo verso il confine con lo Zimbabwe, e attraverso questa strada, dicevamo che hanno investito bene i soldi dei diamanti in infrastrutture, ma insomma, anche loro hanno le buche nelle strade, e questa strada qui sono 30-40 chilometri di buche in cui non si riesce ad andare più di 20-30 chilometri all'ora, se non distruggendo la macchina, per cui è stata veramente una strada molto lunga, poi se si pensa che queste strade sono lunghe, centinaia di chilometri, insomma, le distanze non sono brevi, ci alzavamo la mattina presto per correre queste distanze, ed andiamo a vedere, torniamo in un lago salato, in Aksaipan, per vedere un'isola di Baobab, immortalati da Thomas Bynes. Thomas Bynes è stato un esploratore, ma più che esploratore, un pittore, che li ha immortalati intorno al 1870, e sono diventati famosi per questo. Se vedete qui in Aksaipan, noi c'eravamo questa linea blu, andiamo fino a Nata, poi risaliamo su e andiamo nel Ciobbe National Park, ma prima di arrivare al Ciobbe passiamo il confine per andare a vedere le cascate Vittoria. Dicevo, un attimo, qui torniamo alle queste in Aksaipan, che sono appunto questi laghi salati, che sono famosi perché, eccoli qua, perché ci sono questi sette Baobab che sono lì appunto da quando, sempre uguali, da quando Bynes li ha immortalati nei suoi dipinti nella seconda metà del XIX secolo, e sono questi. È proprio intorno a tutto un lago salato. Ecco, noi andiamo verso Casane, Casane è il confine, il confine con lo Zambia e con lo Zimbabwe, e le cascate Vittoria sono in Zimbabwe, sono 30 km dentro il confine. Noi dovevamo pagare per ogni stato, siccome abbiamo preso la macchina in Sudafrica, per ogni stato attraversato dovevamo pagare 120 euro di assicurazione. e siccome appunto le cascate Vittoria erano solo 30 km all'interno del confine, conviene prendere un'escursione, ci conveniva prendere un'escursione da Casane, al nord del Botswana, ed entrare, con questa escursione in giornata, a vedere le cascate Vittoria, anche perché sono così tanti turisti che transano per quel confine che in questo modo li abbiamo fatti in giornata perché le guide, chi porta i turisti, sa come passare il confine velocemente. Se vai con la tua macchina in meno due giorni li perdi. Eccole qua, guardate in questa foto dall'alto che io in qualche modo ci ho scritto sopra, non la foto, chiaramente l'ho presa dalla rete, per far capire come sono queste cascate Vittoria. Sono le cascate più imponenti al mondo, sono il doppio delle cascate del Niagara come altezza, 128 metri, sono lunghe un chilometro e mezzo e sono lungo questo percorso dello Zambesi che ha un fiume lungo 2500 chilometri e fornono queste cascate in questo fronte che vedete dove stanno cadendo e il bello è che c'è appunto questa gola e si può percorrere a piedi questo percorso rosso che vedete sulla mappa in modo da vederle dall'altra parte. Sono impressionanti, decisamente sono lo spettacolo naturale più importante di tutta l'Africa meridionale sicuramente. E lì ci sono, vedete, il fiume Zambese è diviso a metà tra lo Zambia e lo Zimbabwe noi siamo nello Zimbabwe vedete questa è la zona rossa e le vediamo dalla parte dello Zimbabwe chiaramente patrimonio dell'UNESCO. Qui arrivano 9 milioni di metri cubi di litri scusate al secondo 9000 metri cubi di acqua al secondo e sono tantissime guardate quant'è questo non è nemmeno il momento della piena della stagione delle piogge è un momento intermedio e guardate quant'è l'acqua e ci danno questi impermeabili li noleggiano perché ci si lava e alla fine ci siamo lavati comunque lo stesso pur avendo gli impermeabili addosso quando l'aria arriva eccole qua in tutto tutto il loro splendore avevo dei video per farvele vedere ma ovviamente qui non si possono vedere ma l'idea l'abbiamo lo stesso come vedete guardate quant'è quanto il fumo in fondo che non è fumo ma è appunto vapore anche goccioline dell'acqua come fanno questi arcobaleni e queste venivano chiamate nella lingua locale il fumo che tuona perché il rumore assortante di queste cascate con questo fumo che si alza che nei momenti maggiori si può vedere fino a 40 km di distanza come vedete qui ero già tutto lavato ma è una bella giornata di sole e guardate questa foto appunto che sembra quasi di essere per certi aspetti sulla luna c'è Paola che si sta proteggendo con questo arcobaleno con questo impermeabile e guardate l'arcobaleno se notate si vede bene sia l'arcobaleno primario che l'arcobaleno secondario e notate una cosa questo succede anche da noi l'arcobaleno secondario c'è sempre nel cielo tutte le volte che vedete l'arcobaleno primario cercate più esternamente quello secondario quasi sempre si impravede e notate che il secondario ha i colori invertiti rispetto al primo il primo comincia dal verde e finisce con il rosso il secondo comincia con il rosso e finisce con il verde è sempre così e ricordiamoci anche che l'arcobaleno normalmente quando lo vediamo noi è completo è maggiormente completo quando quando il sole è basso all'orizzonte quindi se vogliamo se si vede un arcobaleno al tramonto all'alba diciamo che l'arcobaleno è quasi che si vede quasi completo è il mezzo arcobaleno totale diciamo ecco lì vicino proprio in una parte adiacente a queste cascate c'è la statua di Livingstone perché è stato lui a scoprire le cascate Vittorian in 1855 le ha scoperte e le ha dedicate come si usava allora alla regina Vittoria ecco questa foto l'ho messa sempre dall'alto perché una delle cose classiche si fa questo percorso guardate che tra l'altro questa foto è stata presa in un momento non diciamo di bassa di bassa portata del fiume vedete che è poca l'acqua l'acqua scende entra in questa gola e questo è un ponte un ponte che risale da cui progettazione risale alla fine dell'ottocento la costruzione del primo del novecento è uno dei pochissimi ponti lungo lo Zambesi lo Zambesi è lungo 2500 km ci sono solo cinque ponti in tutto il percorso e questo ponte è particolarmente ecco qua la foto da vicino è particolarmente così famoso perché faceva parte di un progetto un progetto ideato da 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 Cecil Rodès un politico un imprenditore inglese nato nel 1853 mi pare e morto 50 anni dopo e questo la storia di questo tipo è interessante adesso lo racconto magari lo vediamo anche nella foto che ho riportato il suo progetto era quello di unire il Cairo al Sudafrica a città del capo con una ferrovia lungo tutti gli stati se vi ricordate la cartina prima vi ho detto di notare i stati che erano stati colonizzati dagli inglesi mancava sostanzialmente solo la Tanzania che un po' era stata contesa tra i tedeschi e gli inglesi ma se vedete volevano unire tutti i loro stati attraverso una ferrovia e quel ponte che abbiamo visto adesso faceva parte di questo progetto era stato avviato questo progetto poi è morto per l'instabilità di questi stati sostanzialmente ma se fosse stata realizzata completamente questa ferrovia sarebbe stata una specie di transiberiana d'Africa perché la strada dal Cairo a città del capo sono circa 10.000 km esattamente come la transiberiana in parte è stata realizzata questa ferrovia ma mancano dei tratti lungo gli stati più instabili che sono qua sotto in mezzo della Repubblica dell'Università del Congo e così via manca una parte di questi stati appunto ecco qua Cecil Rodess questo è interessante la sua storia perché lui in qualche modo si era ammalato aveva preso una bronchite e non si era a curarsi e lo hanno mandato all'età di 17 anni un inglese l'hanno mandato all'età di 17 anni dal fratello in qualche modo a passare un po' di tempo in Sudafrica vicino a Durban dove il fratello aveva già avviato un'impresa è andato giù con una piccola somma e in qualche modo lui l'ha investita in pompe pneumatiche perché in quel momento si cominciavano a scoprire i diamanti e loro e servivano dei martelli pneumatici per spaccare la roccia e lui ha fondato un'impresa in qualche modo di martelli pneumatici ed è pian pianino diventato così ricco la sua abilità di imprenditore è stata così grande che all'età di 23 anni era già una persona ricchissima e tanto da poter finanziare il capo andava fino a diciamo vicino a Giovanni sostanzialmente al nord centro nord del Sudafrica lui si espanse e comprò delle minieve di diamanti ha corrotto diversi in qualche modo re dei stati africani e in qualche modo è diventato si è espanso così tanto anche con con i diamanti che all'età di 35 anni lui controllava il 90% delle estrazioni di diamanti del mondo era ricchissimo tanto che a lui è stato dedicato uno stato la Rhodesia che adesso non c'è più ed è stata divisa fra lo Zambia e lo Zimbabue era un personaggio particolare è stato anche politico inglese particolarmente era famoso per essere razzista tanto che la sua statua la sua statua in Sudafrica è stata già demolita un po' di anni fa e c'è da anni da cinque anni una lotta perché la statua che è questa qua la sua statua davanti l'università di Oxford va ruggiero ruggiero sei scomparso un momento pronto pronto io ti sento adesso lo chiamo al telefono e vedo e in questo caso gli è caduta la linea purtroppo un attimo eccolo che rientra ecco ruggiero ti abbiamo perso per alcuni minuti si vede che è tutta la tua linea siamo davanti dall'immagine dove erano rimasti stavo parlando di Oxford ok allora sì stavo parlando di di Cecil di di questo Cecil Rodest che ha una statua in diverse parti del mondo in Sudafrica è già stata buttata giù da tempo a città del capo adesso vogliono abbattere anche la sua statua che è davanti all'università di Oxford perché c'è la sua statua davanti all'università di Oxford perché lui non si è mai sposato lui ha lasciato la sua immensa fortuna in una fondazione che in qualche modo offre bocce di studio alle persone che vogliono studiare in Inghilterra per questo gli è stata messa questa statua ma malgrado questo dicono che deve essere abbattuto e lì c'è in qualche modo una diatriba su questa su questa situazione della statua appunto bene andiamo avanti entriamo nel Ciobe National Park il Ciobe è quel parco diciamo vicino al confine con lo Zimbabwe vicino alle cascate sostanzialmente Vittoria che ha una concentrazione di elefanti che è la più alta concentrazione al mondo decine di migliaia ecco qui la mappa ecco qui la mappa c'è Mahun noi siamo saliti attraverso questa siamo andati a vedere cascate Vittoria siamo tornati indietro questo è il Ciobe e qui c'è il confine Casane è proprio una città che permette l'escursione al Ciobe vicino allo Zambesi se ci si affaccia allo Zambesi e c'è questo questo parco di animali ecco qua anche qua si paga si compra un'escursione in giornata e si va in un'agenzia e si paga questa escursione con altre persone e si vedono appunto con questa escursione che entra nel parco questi animali che scendono verso il fiume per abbeverarsi decine centinaia di elefanti veramente tanti e passano intorno all'auto ignorandola come non esistesse proprio perché loro la vedono come un altro animale innocuo il motivo per cui non entriamo con la nostra macchina nel parco è perché non è facilmente percorribile con una macchina normale perché appunto ci sono queste sabbie e quindi meglio comprare un'escursione in giornata e vedete ci sono anche giraffe e poi la sera questo si fa diciamo l'escursione si fa la mattina il pomeriggio al tramonto si sale su queste barche che percorrono il il fiume Zambesi e che si affaccia appunto su questo parco e si vedono gli animali che vengono ad abbeverarsi ad abbeverarsi al fiume ci sono anche i classici coccodrilli ovviamente qui siamo sulla barca quindi non c'è grosso problema ma sono minacciosi i cinghiali ecco vedete qua dalla macchina e questo appunto questo questo Chobi National Park questi bufali i classici popotrami e guardate questa foto quanti bufali ci sono qui sparsi dentro che sembrano quasi delle rocce ecco qua la sera arrivano tantissimi di questi elefanti migliaia di questi elefanti sono tantissimi e un mese fa è stato pubblicato dal Corriere della Sera questo articolo che fa vedere cioè che parla appunto del Botswana e del fatto che sono morti 300 elefanti nel giro di poco tempo e c'è una diatriba c'è una diatriba fra gli ambientalisti e il governo perché il il governo cioè gli ambientalisti dicono che gli animali sono stati in qualche modo avvelenati dal dai cacciatori di frodo e mentre il governo dopo uno studio sembra si è emerso che in qualche modo si sono stati uccisi da un batterio perché sono morti solo loro e loro bevendo tanta acqua fino a 200 litri di acqua al giorno hanno in qualche modo ingerito tantissimo di questo batterio per cui ne sono morti 300 ed è una notizia di un mese fa ecco vedete la sera si aspetta il tramonto classico questa escursione sul Chovey National Park è quella appunto di uscire dal pomeriggio a tardo pomeriggio con queste barche gli aspettava il tramonto la sera su questo su questo fiume e parliamo adesso anche di queste sempre bella struttura che dove abbiamo cenato che si affaccia sempre su Chovey sono loggie di lusso dove anche le cene costano parecchio il dormire costa tantissimo ma le cene in qualche modo potevamo permettere queste sono invece i loggie dove si dorme vedete sempre immersi nella natura spesso con gli animali che passano sotto sono tutte capanne isolate ma malgrado si paghi tantissimo ma malgrado si paghi a volte quelli in mezzo appunto al delta a volte appunto arrivano migliaia di euro spesso non hanno la luce e non hanno nemmeno la connessione wifi proprio perché uno dà per scontato che uno debba immergersi per forza dentro in mezzo alla natura e allontanarsi dalle comodità il più possibile per il resto è una pulizia assolutamente impeccabile vedete i cartelli ovviamente sono leggermente diversi dai nostri dedicati appunto alla situazione di questi posti e subito dopo abbiamo incontrato questi elefanti che attraversano la strada e ripeto una delle cose sbagliate in questi posti è fidarsi dei cartelli che dicono che il limite di velocità è 120 all'ora assolutamente è pericolosissima le strade di questi della Botswana della Namibia soprattutto e del Sudafrica sono pericolosissime proprio perché in vogliono accorrere e bisogna trattenersi le distanze sono lunghe e ve le debbete accorrere facilmente bene abbiamo quasi sono arrivati quasi alla fine e andiamo a vedere queste queste colline noi siamo usciti adesso usciamo dalla Botswana entriamo in Namibia ma per rientrare poi in Botswana dall'alto dopo aver attraversato il ponte sul fiume sul fiume Kawango per andare a vedere queste queste colline del Sodilo Hill dove ci sono c'è delle alte rupestre lì ecco sono queste qua in alto vedete cerchiate di rosso sono attraversiamo passiamo sopra sopra c'è la Caprivi Street una fetta diciamo della Namibia noi entriamo da lì perché arrivarci da sotto era più difficile per noi ecco usciamo dalla Namibia come dicevo e la cosa che ci ha colpito quando siamo usciti dalla Namibia entrati in cioè usciti dal Botswana entrati in Namibia è vedere che ci offrivano questi preservativi qual è il motivo poi l'abbiamo scoperto il motivo è che questi stati come avevamo già avuto modo di vedere per il Sud Africa hanno una un'altra percentuale di persone seropositive dell'AIDS e sono tantissime guardate qua si parla del 15 al 39% praticamente una persona su quattro è seropositiva in questi stati del Sud tra Namibia Botswana e Sud Africa per cui distribuiscono questi preservativi proprio per frenare questo problema e questo problema era veramente un grosso problema negli anni negli anni primi anni 2000 poi con i medicinali con l'arrivo dei medicinali retrovirali che hanno allungato la vita non curano dall'AIDS ma hanno allungato la vita in qualche modo vedete l'aspettativa di vita aumentava questa è l'aspettativa di vita guardate Uganda Botswana guardiamo i Botswana che ci interessa questo qua rossastro rosso è salita dal 1960 è salita fino ad arrivare a 64 64 anni nel 1990 poi è crollata di colpo a di 20 anni l'aspettativa di vita guardate per colpa dell'AIDS adesso stanno risalendo pian pianino proprio perché sono stati introdotti retrovirali che in qualche modo curano le persone fanno allungare la loro vita quindi è un grosso problema l'AIDS in questi posti questi sono posti dove ci sono alcune riserve dei boscimani questi sanno boscimani questa popolazione diciamo i primi abitanti del Botswana e ecco alcuni di loro sono stati cacciati loro allora è stata riservata come dicevo prima un'area del Calari del deserto del Calari dopo prima che fossero stati scoperti i diamanti dopo sono stati scoperti i diamanti e sono stati allontanati anche da lì quindi adesso vivono sostanzialmente in poche riserve guardate questa macelleria ce l'ho aperto insomma non faceva troppo caldo ma abbastanza potete immaginare che buona è questa carne beh qui vi ho fatto vedere insomma così abbiamo campeggiato una notte prima di andare al solo hill in questi campeggi che sono immersi nel deserto e faceva particolarmente freddo qua guardate qua c'era anche ghiaccio qua sopra quindi dentro per fortuna avevamo sacchi a pelo eravamo portati anche di quelle grossi per fortuna e andiamo a vedere questo soddilo hill le soddilo hill sono patrimonio dell'unesco e sono delle colline 4-5 colline di questo tipo che sono state famose perché ci sono dei dipinti dei dipinti che la maggior parte dei quali si attribuiscono insomma a circa 1500-2000 anni fa ma alcuni di questi bisaggono a parecchi migliaia di anni fa decine di migliaia di anni fa hanno visto che poi sono più più strati a volte di questi dipinti e appunto c'è la guida che ci porta a vederli sono tantissimi questi dipinti ne abbiamo visti alcuni e questa è famosa è una dei più famosi perché è una zebra ecco qua quest'altro dipinto sono tutte bufali zebra e sono molto belli ecco io ho completato la presentazione grazie della vostra partecipazione a tutti grazie al prossimo viaggio della nemibia